Non mi sono mai permesso di utilizzare scontri politici o critiche con altri miei colleghi presidenti. Ho sempre detto che in un momento come questo, in cui bisogna contrastare una pandemia che già per definizione è qualcosa di drammatico, bisognerebbe superare qualsiasi appartenenza geografica e anche politica. Chi fa troppa polemica secondo me davvero non si rende conto che mai come oggi i cittadini hanno bisogno di risposte all'altezza dei loro problemi, non di dispute tra le classi dirigenti per qualche voto in più alle prossime elezioni. Quando ho detto che io e Zaglia siamo dalla stessa parte è perché il virus non è né di destra né di sinistra. Ha bisogno di risposte puntuali? Se io penso che l'Emilia Romagna era la seconda regione più colpita e oggi è quella col più alto numero di guariti in rapporto ai casi attivi, mi pare di dire che ci siamo concentrati a dare risposte ai problemi e non a dividerci per parti.